Amici di Youtube e di Instagram, buon pomeriggio a tutti quanti, buon pomeriggio Campioni d'Italia doppiamente stellati, edizione giornaliera, oggi editoriale di oggi come al solito Ieri assenza causa maturità, purtroppo non dipende dal sottoscritto Allora ragazzi, grandi notizie, mettetevi comodi Per l'editoriale di oggi, per l'edizione giornaliera Sempre in prima linea, ci aspetta un'estate di mercato Un'estate assolutamente da seguire attentamente per quanto riguarda il mercato Un po' come l'estate scorsa E stasera poi chiaramente c'è la gara dell'internazionale Perché alla fine abbiamo trovato queste similitudini che si vedono palesemente sul campo E soprattutto anche tatticamente di una nazionale italiana che assomiglia sempre di più all'Inter E che stasera scederà in campo appunto con la Spagna per il primo vero test E per chiudere definitivamente, c'è la possibilità di chiudere definitivamente Insomma tutti i discorsi qualificazione Perché ieri l'Albania ha pareggiato 2-2 contro la Croazia Bellissima partita, piena di emozioni, di occasioni E di un grande Christian Aslani che adesso ci arriveremo Insomma quindi C'è questa opportunità importante per chiudere subito i discorsi È normale che non è che affronti l'ultima arrivata Affronti una delle prime della classe come la Furia Roca Con tantissimi giovani della cantera e poi campioni assolutamente Di un carattere, di una carattura assurda come Rodri Che è il punto di gioco, la fonte di gioco della Spagna Una Spagna che è molto diversa dalle ultime apparizioni Da quella che ha vinto quell'europeo, quel mondiale, quell'europeo lì di fila Dal 2006 in poi, dal 2008 Quindi quando ha vinto l'europeo e poi quando ha vinto il mondiale nel 2010 E l'europeo nel 2012 Finale contro di noi tra l'altro E quindi sicuramente una Spagna che non è che ha più il pallino del gioco Che giochicchia, che ha il tichità, che invece è una Spagna che gioca più in profondità Ad attaccare la profondità con un calcio più verticale Di Luis de la Fuente, l'allenatore della Spagna Quindi sicuramente l'impostazione tattica di Spalletti Che è un po' non tattica no perché chiaramente è un 4-2-3-1 Ma per quello visto in campo sicuramente queste similitudini con l'Inter Nel giocare un tocco e nel palleggiare molto al limite dell'area Potrebbe essere una chiave importante per vincere una gara fondamentale Una gara fondamentale, la formazione è ormai riconfermata quella Anche se c'è una possibile Dicono che ci potrebbe essere una possibile partenza dal primo minuto per Cristante Che sarebbe uomo su Rodri, scelta condivisibile Però non da, diciamo, snaturare il nostro gioco Visto che secondo me non siamo secondi a nessuno Basta vedere la proposta e soprattutto la qualità vista contro l'Albania È vero, occasioni ne potevamo avere sicuramente di più per chiuderla Quello sicuramente Abbiamo rischiato fino all'ultima tenendola aperta Anche se l'Albania ha fatto una buona partita Perché c'è anche da sottolineare l'Albania Che potrebbe essere una sorpresa di questa Europa Potrebbe passare da miglior terza Perché comunque per la personalità Vista anche ieri contro la Croazia Non è una squadra comunque da sottovalutare E sì, è vista sicuramente la differenza poi di qualità E quando si scende in campo l'Inter Nel vero senso della parola Poi sono cazzi amari Quindi formazione riconfermata E io però darei una chance di più a Darmian Devo essere sincero Io metterei Darmian titolare Soprattutto per un Di Lorenzo Che non mi sembra assolutamente in forma smagliante E poi è normale Io passerei a 3 dietro Passerei a 3 dietro soprattutto Ripeto ancora in fase di non possesso Quando costruiamo ci mettiamo a 3 dietro Con i quinti che spingono Però in realtà È importante anche con squadre Veloci e tecniche come la Spagna Con Nico Williams La Stella La Mia Mal E Morata Che è un attaccante di tutto il rispetto Insomma Secondo me Ecco la La difesa a 3 Potrebbe contrastare di più le Pratiche offensive Con un Calafiori Magari più spostato Sulla destra Bastoni centrale Ed Armian Oppure Calafiori sulla sinistra Forse è meglio Visto che è imposta Poi con Col piede Mancino E Soprattutto da una forte spinta Come ha fatto il Bologna quest'anno E poi Bastoni magari Al centro Ed Armian a destra Che dà un contributo Non è Assolutamente indifferente Abbiamo visto Tra l'altro Che grande partita Che ha fatto A Istanbul Contro Foden Ma anche Di Marco La grande prestazione Contro il Barcellona Dell'anno scorso Su quel bellissimo gol Di Cerenoglu Come ha annullato Dembélé Dembélé Il giocatore che gioca simile A Nico Williams Su quella fascia Quindi secondo me È una mossa tattica Che dovrebbe fare il mister E secondo me Dare un'opportunità Ad Armiana Che comunque È una sicurezza E questo lo sappiamo Noi nerazzurri Poi chiaramente Le valutazioni le fa Il mister Non siamo noi Qui a criticare Spalletti Che Gode della mia stima Un grandissimo allenatore Comunque Ieri Aslani Fa una super partita Con l'Albania Una super super partita Peccato per quel gol Mangiato Lì a due passi Dalla porta E Sta uscendo fuori Il vero talento Di Cristian Aslani Un talento cristallino Perché Alcuni poi Anche lì Sembra che se ne sono accorti ieri Di quanto sia forte Aslani Cioè Adesso Parlano Adesso Aslani che parla Sì ma non è che L'hai scoperto ieri Aslani Sai che giocatore è Soprattutto Questo ti fa capire Di avere un giocatore importante Che Ovviamente Sa di giocare Dietro un mostro Come ha Canciola Noglu Che ha le chiavi Del centrocampo dell'Inter Però Quando ha messo Il suo contributo Sostituendo Ciala Cioè ragazzi Non scherziamo Perché Non ha assolutamente Fatto rimpiangere il turco Nel senso Ora L'Albania sta godendo Di un grandissimo Giocatore Come Aslani Con le scalpette Di Mario Bros Bellissime Dove comunque Quando è Stato chiamato in causa Contro il Lecce Dove ha fatto quel bellissimo Assist ad esterno Bellissimo per il Toro L'assist perfetto All'Autaro Per il gol Contro la Fiorentina Firenze Dove ha fatto una super partita E quella è stata una vittoria Importante Anche in termini di scudetto Visto che Eravamo senza Di Marco E Senza Cialanoglu Cioè Insomma Le nostre due fonti di gioco E Poi Anche con il Genoa Una super partita Dove ha trovato Il suo primo gol Con la maglia dell'Inter E il suo secondo In Serie A Stiamo parlando Poi soprattutto Nella partita di ieri Si è dimostrato anche pericoloso Un paio di volte Con due tiri dalla distanza Nello specchio della porta Insomma Qualità e quantità Cristiano Aslani Chiaramente è sempre Un percorso di crescita Perché Stiamo parlando comunque Di un giocatore di 21 anni Quindi adesso arrivare a È normale che Tutti debbano Fare Insomma Le loro valutazioni Il mister Il ct dell'Albania Inzaghi che comunque Dove il primo anno Sembrava che non lo vedesse Perché preferiva ancora Gagliardini Invece quest'anno Hai visto che Ha preso Parecchi minuti E Si è fatto valere In parecchie circostanze Abbiamo un Una Un rincalzo Molto molto importante Ora Non sappiamo Se diventerà un fenomeno Ma nessuno lo può sapere Stessa cosa Per Valentin Carboni Anche se È già più un prediletto Ma un altro ruolo Non c'entra assolutamente niente Però Sicuramente Possiamo godere Di un giocatore Che ho sempre sostenuto E mi fa Ridere Mi fa specie Di gente che Lo etichetta Come bidone Su qualche canale Youtube Che non voglio nominare E soprattutto Gente che Sembra che se ne accorta ieri Che è venuta fuori ieri Con Con le grandi giocate Gli aslani Beh Se te ne accorgi solo ieri Insomma C'è qualche problema C'è qualcosa che non va Insomma Oltre a questo C'è da dire che Poi Io non è che voglio sempre fare Quello che No Perché tu Sei troppo sicuro Allora C'è da dire una cosa Cioè Anche solo in questo europeo Si sta vedendo La differenza Di chi È rimasto all'Inter Per un progetto serio Per un progetto vincente Per un futuro roseo Che ha sposato E ha scelto Di venire a giocare All'Inter E invece Si sta vedendo Chi Ha scelto di andare via Chi ha scelto di scappare E andare da altre parti Ora Scelte giuste O sbagliate Certo per alcuni Sono state infamate E clamorose Per altri invece Decisioni consensuali Però Basta vedere ieri La partita di Aslani Che è stato Il migliore in campo Secondo me Partita sontuosa Dove alla fine Si è meritato La maglia Di Luca Modric E poi Hai visto Brozovic Dall'altra parte Cioè Una prestazione Che Se paragoniamo Il Brozovic Dell'Inter Con quello di ieri E l'Aslani di ieri Cioè Ma Ma non c'è neanche Un gradino Proprio Di distanza Ce ne sono tre Di gradini Ieri Una partita Bruttissima Di Brozovic Cioè Touram Con la Francia Che partita ha fatto Che contributo Ha dato Soprattutto In fase di spinta In velocità Nonostante la Francia Non abbia fatto Una grande partita Davanti A parte Mbappé Qualcosa Cantè Sontuoso Che ha salvato Il risultato In più Occasioni Touram È stato uno Dei migliori In campo Barella Mostruoso Regista Tutto campista Ed è per quello Che io metterei Giorginio Oggi Su Rodri E farei Impostare Tanto imposta Sempre Nicolò Cioè Barella Fa tutto Nicolino È l'anima Tutto campo Ormai Non è che ormai Da sempre Così Il piccolo Lothar Io lo chiamerei Perché Assomiglia tanto A Lothar Mateus Poi Basta vedere L'ex 90 La merda Che ha fatto Cioè Due cola nullati Figure di merda Su figure di merda Lo perculano In tutti i luoghi In tutti i laghi È un meme vivente Cioè Pure sua madre Lo prende per il culo Bisogna Cioè Capire Che Ma basta vedere Skriniar Ragazzi Ma Skriniar Che ha vinto Va bene contro il Belgio Ok Ma ha fatto un sacco Di cappelle In quella partita Che Per chi non ha visto La partita E guarda solo il risultato Ma Ne ha fatte di cappelle E la Slovacchia È stata salvata Parecchie volte Dagli interventi Di Dubrovka Perché Skriniar Ha fatto Veramente Una partita oscena Contro il Belgio Quindi vedi Chi se n'è andato Che sta facendo Sempre peggio E si è perso E poi Vedi Chi invece Ha scelto Di sposare Il progetto dell'Inter E ha Dato una svolta Alla propria carriera Basta vedere La grande partita Di Frattesi Con la Nazionale Peccato per quel palo Bastoni Di Marco Dopo l'errore Poi comunque Prende confidenza E fa una super partita Ma cioè Di cosa stiamo parlando E non voglio continuare Però Ci sono le categorie Chi è rimasto Ha dato una svolta Alla sua carriera Chi è andato via Girovaga Per il mondo E E fa figure di merda Cioè mi spiace dirlo Per qualcuno Invece godo Per qualcun altro Ok Quindi Questo era un po' La situazione Poi 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 Prima di parlare Di Martinez Che ormai è fatta Ormai è fatta C'è l'accordo Ormai Joseph Martinez Sarà il nuovo portiere Dell'FC internazionale Milano Perché Oristanio È già definito Definito Il suo Arrivo Come contropartita Tecnica Nell'operazione Per Joseph Martinez Valore di mercato Di 5 milioni Valutati dall'Inter Insomma Un'operazione totale Quella Del portiere spagnolo Di 15 milioni Che però Comunque poi Con l'aggiunta Della contropartita E qualche bonus Vai a pagarlo Quasi meno di 10 Un acquisto Che alcuni Sentito ancora Perdita di soldi Soldi buttati 26 anni Non lo rivendi Ma che cazzo c'entra Prima cosa Non lo rivendi Deve fare il titolare Innanzitutto Ma ragioniamo Sul macro periodo Non sul micro periodo Perché rivendi Rivendi Noi non è che siamo Non siamo una Non facciamo La compravendita Di FIFA qua Cioè che compri Rivendi Ma di cosa stiamo parlando Innanzitutto Poi Chi ha questi tristoni Chiaramente Iniziamo già a combatterli Adesso che non è neanche iniziato Il mercato Figuriamoci Quest'estate Non voglio immaginare Non voglio immaginare E poi ci sono le vedove Di Bento Ancora che parlano di Bento No perché Bento Bento Il caro Bento Che è fortissimo Sicuramente Poi stanotte Inizierà la Coppa America Buchanan All'esordio Contro Lautaro e Carboni I nostri tre Nerazzurri Già in campo Per la prima partita Della Coppa America Però Bento L'atletico paranaense Ti chiede 30 milioni Se poi Bento Fa una grande Coppa America Quest'anno Che è titolare Della nazionale Del Brasile Peggio mi sento Con le valutazioni Della tletico paranaense E poi Sono tutti cash Non accettano Né contropartite E neanche Prestito Con diritto di riscatto Perché in Sud America È così Quindi Bento Sarà fortissimo Sarà quello che vuoi Sicuramente È fortissimo Ma Se devo prendere Un secondo portiere A 40 milioni 30 milioni Quando ho Un portiere Già Ormai Siamo ai dettagli Addomesticato Come Joseph Martinez Che conosce il campionato Viene da due stagioni Incredibili Una in B E quella di quest'anno Che è stata Comunque una stagione Buonissima Che Solo chi Non guarda Il campionato Può dire Che sia un bidone Joseph Martinez Perché ho sentito Anche che dicono Questo è un mezzo portiere Se tutti i mezzi portieri Sono così Allora Siamo bene Allora Gli ultimi anni Di Andanovic Che cos'era Se voi Giudicate Joseph Martinez Come un mezzo portiere Voglio vedervi Allora giudicare Gli ultimi anni Di Andanovic Cosa cazzo Gli dicevate Che era Che era Non lo so Un bidone Della monnezza Che era uno stendino In porta Ma di cosa stiamo parlando Quindi Sappiamo insomma L'operazione Molto intelligente Dell'Inter Che pianifica Il 25-26 Con Con Un portiere Ottimo Nelle uscite Sicuro Sulla linea di porta Un portiere Fortissimo Con i piedi Scuola Barcellona Quello Che ti serviva Quindi Bene così Ormai L'accordo è finito Quindi Oristanio Al Genoa E quindi adesso Forse si potrebbe Ritornare Sulla voce Satriano Da dare insieme A Stankovic Al Venezia Per Tesman Insomma Un acquisto Importante Sempre in termini Futuribili E Che vai a pagare Quanto Cioè Poco meno Di 10 milioni Quindi Cioè Per chi parla Di soldi buttati Insomma Lasciamo perdere Lasciamo vivere il loro brodo I tristonazzi Che Non hanno Forse per me Non avrebbero Neanche diritto Di parola Comunque Lasciamo perdere Poi Poi Dopo Sempre parlando In termini di mercato Ora Vuol dire tanto La notizia Che è uscita In queste ore Anche ieri Del Vivaio Che l'Inter Sta costruendo Pian piano Abbiamo iniziato Con Topalovic Che Insomma Sempre 2006 Come Color che vi sto Per narrare Ora Vi invito A andare a vedere L'articolo Di battito Inter Scritto Dal sottoscritto Gioco di parole Dove Insomma Ho elencato Tutti Le grandi I grandi pregi Le grandi caratteristiche Di un Mediano Che gioca anche Come trequartista Molto utile Forte Tecnicamente Da Far partire In ritiro Poi Giocherà l'anno prossimo In primavera Oltre alla Primavera C'è una linea verde Che vuole instaurare L'Inter Prima è di Alex Perez Il centrale del Betis Sempre 2006 Già Osservato Da parecchio tempo Che arriverebbe subito A Milano Per giocare in primavera L'anno prossimo E Con Un'operazione Di un prestito Con obbligo di riscatto Da chiudere A un milione Il Diciassettenne Forte Fisicamente Difensore Titolare Del Betis Quest'anno E poi Giovanni Leoni Che per chi non lo conoscesse Insomma Quest'anno Ha giocato All'Under 19 L'anno scorso Che ha fatto Anche grandi presenze In bicola Samp Dove l'Inter Sarebbe disposto A offrire 3 o 4 milioni Sempre anche lui Un centrale di difesa Molto fisico Forte nei contrasti Negli uno contro uno Per poi Quindi 3 o 4 milioni Di Di offerta Alla Samp E poi lasciarlo Però sempre in prestito Per un altro anno A Genova Quindi Un altro anno La Samp Insomma Questo ti fa capire Ti fa capire Insomma Che Impatto E che visione nuova Anche della nuova proprietà In termini Di giovani L'ha detto bene Marotta Valorizzazione Dei giovani Non a caso Nel 2025 Non a caso Non sono acquisti Che tu fai a caso Li fai Perché l'Inter Tra tutte le caselle Da spuntare Per i prossimi anni E anche Soprattutto Grazie Alla Alla visione Di Octree Un'altra casella Da spuntare È quella del Vivaio E della squadra Under 23 Perché l'Inter Nel 2025 Quando acquisirà le licenze Perché comunque adesso È anche una Una Come si può dire È una pratica Che richiede tempo Non è una cosa Da Due giorni E via Dove Comunque Ragazzi Noi abbiamo Le La primavera Under 18 Che era Ha fatto che quest'anno Un buonissimo risultato In le fasi finali Del campionato primavera Poi vabbè Ha perso contro Stasuo L'Under 17 Vicinissimo A vincerlo Scudetto L'Under 15 Ha vinto lo Scudetto L'Under 16 È arrivato ai fini in fondo È normale Che apri Apri anche un attimo Gli occhi E soprattutto Vedi le realtà La realtà Del settore giovanile Dell'Inter Quanto è importante Ed è per questo Che l'Inter Nel 2025 26 avrà La squadra Under 23 Vivaio Boom E quindi è un progetto Chiaramente Che dà Svolta Storica Di un'altra faccia Dell'Inter Con la proprietà Americana Che secondo i coglioni Trisseri doveva tagliare Dovevano tagliare Vero Octree doveva tagliare Infatti Octree taglia 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 Insomma Quindi Non a caso Anche l'acquisto Di Topalovic Perez E Leoni Sono acquisti Con l'ottica Dell'Under 23 Che appunto Disputerà la Serie C 2025 2026 Poi Poi Tra l'altro Bellissima L'immagine Del mister Il demone Al matrimonio Del fratello Al matrimonio Di Pippo Non so dove era Lì se Milano Maritti Ma dove cazzo era Bello abbronzato Lo smoking Bianco Camicia bianca Giacca bianca Perché noi siamo una squadra Che passa sempre Con lo smoking bianco Perché noi Lo smoking bianco Ce l'abbiamo dentro Perché noi siamo puliti E non abbiamo le rogne Ad oggi Poi Se succederà qualcosa Nessuno lo mette in dubbio E si analizza la situazione Ma ad oggi Gli esposti Che fanno i gobbi Che vanno bene Per pulirsi il culo Alla domenica mattina A posto della cartigenica Non risulta Anzi Non è che non risulta Messi nel modello 45 È proprio roba Che proprio Cioè Le cagate Vengono messe Nel modello 45 Il fascicolo Plus Valenze Non c'è nessuna ipotesi Di reato Indagine Insomma Poi voi potete dire Quello che volete Ma ad oggi Poi parlano I milanisti Non li conto neanche I gobbi che parlano Insomma State attenti Perché a sentire Moncalvo Quello che ha detto Su Youtube Su un canale Della Juve Che ho sentito Anch'io Che hanno sentito Penso tutti Cioè Io non starei Così tanto Tranquillo E pensarei prima Ai cazzi Che ho in casa mia Visto che ad oggi La Juve Non è sotto 3 tram Cioè la Juve Oggi è sotto 4 o 5 tram La Juve È in una situazione Imbarazzante Deleteria Conti che fanno ridere Ecco perché Gravina ha patteggiato Con Elkan Cioè Anzi Elkan ha patteggiato Con Gravina Ecco perché Infatti Moncalvo l'ha detta tutta Perché con i bilanci Che aveva la Juve Non si poteva iscrivere Al campionato Ma va Ma ci siete arrivati Solo oggi Ci siete arrivati Solo adesso Ma è da mo' Che si sa Ma è da mo' Che continuiamo a dirlo Su questo canale È da mo' Che Gravina È stato importantissimo Nell'iscrizione Al campionato Della Juve Perché senza Gravina Questi sarebbero Ripartiti Con il caso Plus Valenze Con il falso In bilancio Tutte le cagate Che hanno fatto Altro che Questi sarebbero Partiti dalla serie C Ma quando ti chiami Elkan Insomma E vieni dalla famiglia Più potente in Italia È un altro conto È un altro conto Quindi insomma È così È così Ma noi Ad oggi Siamo Come il mister Che balla Al matrimonio di Pippo Con lo smoking bianco Belli abbronzati Campioni d'Italia Con lo smoking bianco Con lo smoking bianco Quindi ora Ultima notizia di oggi Che Non è di oggi Insomma Di qualche giorno fa Le bellissime dichiarazioni Di chi Di chi Proprio sue Di Denzel Giustus Morris Dumfries Proprio lui Di Denzelone Dumfries Dove ha parlato Appunto In Germania Dal ritiro Della nazionale Con Di Marzio Dove Ha Fatto Delle belle dichiarazioni Che ha gasato Poi Aveva parte Questi parietto Lì con Quell'altra Con parrucca Merdanez Dove ha detto Io non l'odio È solo una Una Insomma Una Questione di campo Ma quello Si sa Perché L'agonismo È l'agonismo Poi possono raccontarci Come cazzo vogliono L'odio sportivo È un'altra cosa Tutti noi speriamo Che Insomma Che succedano Le peggio cose A parrucca Merdanez Tra l'altro Con la Francia Che ha fatto pure Una partita Onesta Diciamo E basta Però Rimane lì Poi Il campo È Fuori dal campo È un'altra cosa Un'altra cosa Dove ha detto Penso che il mio futuro Sarà l'Inter È un top club Mi piace All'Inter Mi sento a casa Il mio sangue Nera azzurro Poi ha detto Tra l'altro Anche sulle voci Relative al rinnovo Dove Non c'erano le disponibilità Perché l'Inter Era in difficoltà finanziaria Ma occhio Perché adesso Proprietà è cambiata Infatti Nell'intervista fa Adesso Proprietà è cambiata Infatti adesso Quindi attenzione Attenzione A questa cosa Qualche non è un fattore Da sottolineare Perché se Dunfriss Va a dire Attenzione Perché adesso però La proprietà è cambiata Quindi Chi lo sa Magari c'è qualche spiraglio Anche Per il rinnovo Ora i presupposti Ad oggi non ci sono Per il rinnovo Di Denzelone Dunfriss Certo che comunque Adesso Siamo sempre lì Insomma Vi può stare sul cazzo Per alcuni Che lo chiamavano Anzi lo chiamano ancora Che Lo chiamano il Jonathan Nero Il Cesso Il Bidone Li tirano dietro di tutte Ma stiamo parlando Di un esterno Che Nel bene o nel male Vi piace o non vi piaccia Scoordinato o non scordinato 5 Ha una media di 4-5 gol E 5-6 assist Sta campionato O mi sbaglio Non sto dicendo cazzate O mi sbaglio Perché poi magari Sai Perché alla gente Piace raccontare Le cazzate che vogliono loro Uno dice una cosa E poi si autoconvince Che sia quello No ma non è così Non è così Per questo Che poi è normale 5 milioni Io sono il primo a dire Che se vuole 5 milioni Qual è la porta Perché ragazzi Va bene tutto Ma Dunfriis che sicuramente Un giocatore a cui teniamo Sicuramente Un giocatore importante Perché è un giocatore importante Denzel Dunfriis Soprattutto per la Per quanto si sente interista Per la forza di abnegazione Per lo spirito da guerriero Nei derby Grande spirito combattente Nero azzurro Certo che 5 milioni Per un giocatore che Ha tanti limiti Questo nessuno lo mette in dubbio Ha tanti limiti Però Anche lì Arrivare a dire Che è un cesto Che ha le timber Dal posto dei piedi Ma a me è un giocatore Che fa 4 gol a campionato E poi che gol Perché non è che sono gol Che fanno Cioè Il gol cosa solo L'abbiamo visto tutti Che è gran gol Il gol con Cagliari L'abbiamo visto tutti Che è gran gol Cioè Con Cagliari un po' meno Perché aveva un gol Diciamo sull'angolino Ma quello cosa solo Un grandissimo gol Cioè Definire uno Senza tecnica Che ti mette 5-6 assist A campionato Fa gol in Champions Fa gol Importante in campionato Bah A me così tanto scarso Tecnicamente Non mi sembra Ripeto Non avrai i piedi di Di Marco Ma Chiamarlo brocco Scarso E difensivamente Ragazzi Di cosa stiamo parlando Quest'anno Ha fatto una super stagione Per quello che ha giocato Ha giocato meno Ha giocato meno L'anno scorso Ha fatto una stagione Al di sotto Delle aspettative Sì Ma comunque 4 gol e 4 assist Cioè Ragazzi Mettiamoci anche Nella ottica di dire È vero Ma guardiamo anche I risultati I numeri Non puoi dire Che Don Frise è un bidone Punto Non puoi dirlo Ah ma l'ha sempre Sempre E non è un dissing a Luca No perché poi No perché Luca Grandissimo Mio fratello Anche lui Grandissimo Nero azzurro Luca Inter TV Chiaramente Vi invito a iscrivervi A suo canale Il numero che mi ha anche Invitato sul suo canale Abbiamo vinto la guerra Insieme Noi due Anche con il grandissimo Danielone Per quel personaggio Che si aggirava su YouTube Lui continua a dirmi Che Don Frise è un bidone Ma chiaramente Non ce l'ho con Luca Assolutamente Però Lui tra l'altro Non ha mai detto Che è un bidone Ha detto che però È un giocatore Su cui non farebbe affidamento Ma di certo Non è l'unico Che la pensa così Però io ce l'ho con chi va Contro a prescindere Don Frise non puoi dire Che è un bidone Non ce l'ho con Luca Chiaramente Vabbè che poi magari Mi sente il video Magari si sente offeso Magari può anche essere Ma non ce l'ho con te Vai tranquillo Numero uno Ciao ragazzi Amala sempre Sempre Forza Inter Un bacione a tutti Ci vediamo poi stasera Non so se farò il post partita Vediamo Magari farò un commento Poi domani Vediamo Magari stasera Faccio un video breve Comunque Vediamo Ciao ragazzi Amala sempre Sempre Forza Inter